Villanelle si è data alla religione nel tentativo di redimersi e vive in una chiesa in Inghilterra con il vicario Phil e sua figlia May. Eve, sempre alla ricerca dei dodici e ora impegnata nella sicurezza privata, rintraccia Constantine, ora sindaco di una città russa, e ottiene una pista su Hélène. Anche Caroline, declassata dopo l'uccisione di Paul, continua a dare la caccia ai dodici e scopre che qualcuno sta uccidendo i suoi membri. Frustrata per la sua mancanza di poteri, chiede l'aiuto di Eve e in seguito si trasferisce in Russia alla ricerca di ulteriori informazioni. Villanelle invita Eve al suo battesimo, ma lei non partecipa. Villanelle fa una visita a sorpresa a Eve, ma quest'ultima non riconosce i suoi sforzi per cambiare. Frustrata, Villanelle torna in chiesa e tenta di uccidere May annegandola nella fonte battesimale, ma riesce a fermarsi. Più tardi, quella notte, Villanelle ha una visione di Gesù sotto forma di se stessa travestita. Guidata dalla visione, Villanelle si unisce a Phil, May e alla loro congregazione in un campeggio. Villanelle sembra fare ammenda con May dopo il tentato a negamento, e quest'ultima confida a Villanelle che suo padre Phil è responsabile della morte di sua madre, essendosi schiantato con la loro auto mentre guidava ubriaco. Villanelle lo rivela al resto della congregazione nel tentativo di responsabilizzare Phil, ma viene respinta. In seguito sente Phil e May parlare negativamente di lei, così si infuria e li uccide. Lascia quindi il campeggio, abbandonando la sua visione di Gesù. Nel frattempo Eve rintraccia Hélène in un appartamento a Parigi. Viene aiutata dal suo collega Yusuf, con il quale ha anche una relazione sessuale occasionale. Si recano a Parigi, dove Eve affronta Hélène nel suo appartamento. Hélène rivela a Eve di essere responsabile degli omicidi dei membri dei dodici che Caroline ha scoperto. Lo fa per trovare il leader dei dodici. Eve ed Hélène accettano di aiutarsi a vicenda. Villanelle torna a Londra e si introduce nella stanza d'albergo di Eve. Questa, tornata da Parigi, la trova lì e respinge le sue richieste di aiuto, ma le permette di rimanere nella stanza. Eve si allontana per intracciare l'auto di Hélène in un parcheggio dove si imbatte in un'ex fidanzata scontenta di Hélène. Eve la invita a bere qualcosa nel tentativo di ottenere informazioni sull'obiettivo e scopre che è stata sposata a Cuba con un uomo tedesco di nome Lars, prima della sua relazione con Hélène. Eve ritiene che Lars possa essere l'obiettivo di Hélène. Hélène incontra Pam, un'assassina che sta facendo formazione, che esprime il desiderio di iniziare a lavorare per sfuggire alla sua famiglia violenta. Dopo un'esitazione, Hélène accetta e assegna Constantine come suo supervisore. Usando il tablet di Eve, Villanelle organizza un incontro con Martin, lo psichiatra amico di Eve, e lo tiene in ostaggio a casa sua, costringendolo a fare una terapia. Martin le dice che le sue tendenze psicopatiche sono state apprese e possono essere disimparate. Eve torna nella sua stanza d'albergo e scopre che Villanelle ha dato la caccia a Martin. Incontra Villanelle a casa di questi, seguita a breve distanza dalla polizia chiamata da Eve, che arresta e imprigiona Villanelle. Questa viene rilasciata dal carcere con l'aiuto di Hélène, che le comunica l'impossibilità di lasciare i dodici e le assegna un nuovo incarico a Cuba. All'Havana, Villanelle rapisce Caroline, che si è recata lì per interrogare Rustem, un membro dei dodici sopravvissuto a un attentato ordinato da Hélène. Aggredisce Caroline, ma le risparmia la vita dopo che questa rivela a Villanelle di conoscerla da quando era bambina nell'orfanotrofio. Caroline incoraggia Villanelle a interrogare e torturare Rustem, che rivela il nome di un ristorante prima di essere ucciso da Villanelle. Caroline incontra Lars al ristorante, che è sorpreso di vederla, e fugge. La donna racconta Villanelle di aver avuto una relazione con Lars e che probabilmente è diretto a Berlino. Nel frattempo, Eve incontra Hélène, che conferma che Lars è in realtà il suo obiettivo, e sfida Eve a trovarlo prima di lei. Mentre segue una pista a Parigi, viene contattata da Hélène, che invita Eve nel suo appartamento e la deride con la notizia che Villanelle è uscita di prigione. In risposta, Eve bacia Hélène e lascia l'appartamento. In un flashback del 1979, Caroline e Constantine partecipano a una riunione anarchica a Berlino, guidata da Lars. Quando Lars sta raccogliendo idee per il nome del loro gruppo, Caroline suggerisce di chiamarsi come il numero dei membri fondatori, 12. Caroline e Constantine flertano e alla fine passano la notte insieme. In seguito, Caroline scopre che suo padre, una spia britannica, si è suicidato dopo essere stato ricattato. Quando Caroline scopre che Constantine è russo, lo affronta su un lago. Constantine le dice di essere una spia del KGB e di essere responsabile del ricatto di suo padre. Lars trova i due a discutere e ne nasce una lotta durante la quale Lars cade nel lago e scompare, dato per morto. Nel presente, Villanelle uccide il marito violento della sua hostess cubana, poi lascia Cuba per incontrare Constantine a Margate, nel tentativo di rintracciare Hélène. Eve acquisisce una vecchia videocassetta di Lars e della sua ragazza inglese. La guarda e riconosce una giovane Caroline. Eve rapisce Chloe, la figlia di Hélène, da Parigi, come risposta al fatto che Hélène ha pagato la cauzione per Villanelle. Hélène si vendica portando Eve a Margate, dove è costretta a vedere Villanelle colpita da una freccia e cade a terra priva di sensi. Eve corre da Villanelle. La ragazza sopravvive all'attacco. Le sue ferite vengono curate da Eve, Constantine e Pam. Constantine ipotizza che dietro l'attacco ci sia Goon, un'assassina scozzese dei dodici addestrata anche da Constantine. In seguito, un ignara Villanelle incontra Goon, che le consegna un biglietto in cui afferma di aver ricevuto l'ordine di uccidere Villanelle da Hélène, ma di aver scelto di risparmiarla, e che Hélène si trova attualmente in un hotel di Berlino. Eve si reca a Berlino dopo aver saputo da Villanelle che Caroline e Lars si trovano lì, ma trova solo Hélène e la segue nella sua stanza d'albergo. Villanelle, che si era già nascosta nella stanza d'albergo, uccide Hélène davanti a Eve. Ancora arrabbiata con lei per averla fatta arrestare, Villanelle la abbandona. Parte per la Scozia per incontrare Goon dopo aver ricevuto da Constantine la sua posizione. Eve rintraccia Caroline e la affronta fuori dalla baita di Lars vicino Berlino. Caroline dice a Eve che non fa parte dei dodici e che è lì solo per ottenere informazioni da Lars. Con grande disappunto di Caroline, Eve inrompe nella baita e uccide Lars. Caroline cerca il corpo di Lars per trovare un quaderno. Villanelle arriva sulla remota isola scozzese dove vive Goon. La incontra e le chiede se può stare con lei. Villanelle si risveglia sull'isola di Goon e la accompagna in una battuta di caccia. Le due si scambiano storie e si baciano. Goon si affeziona immediatamente a Villanelle, ma questa respinge Goon dopo aver appreso che è ancora fedele ai dodici e tenta di lasciare l'isola. Goon risponde inseguendo Villanelle con un macete. Nel frattempo Eve viene invitata al karaoke da Yusuf, dove sperimenta dei flashback del suo ex marito e dei suoi colleghi dell'MI5. Yusuf lascia definitivamente Eve, dopo che lei gli dice di non riuscire a superare il suo passato. Eve si reca da Martin per chiedere consiglio, che le dice di entrare in contatto con le persone che la capiscono veramente. Eve riceve un messaggio criptico sul telefono di Elen e va a trovare Constantine, che le dice che si tratta di un annuncio per una riunione dei dodici. Le consiglia di portare con sé Villanelle e le indica la posizione dell'isola di Goon. Pam va a trovare Constantine dopo la partenza di Eve e lo uccide su ordine di Elen. Un Constantine morente rivela a Pam la morte di Elen e le chiede di consegnare una lettera e una dichiarazione d'amore a Caroline. Eve si reca sull'isola di Goon e subisce un'imboscata da questa, mentre Villanelle, che si è nascosta tra i cespugli, osserva da vicino. Eve acceca Goon durante la lotta e lei e Villanelle fuggono dall'isola. Trascorrono insieme un giorno e una notte d'amore, viaggiando attraverso la campagna scozzese per raggiungere la riunione dei dodici a Londra, dopo che Eve convince Villanelle ad aiutarla. Nel frattempo, Pam consegna la lettera di Constantine a Caroline. A Pam viene offerto un lavoro da Caroline, ma lei rifiuta e se ne va. Caroline, dopo aver seguito gli indizi contenuti nel taccuino di Lars, arriva al luogo di incontro proposto dai dodici, seguita da Eve e Villanelle. Il telefono di Elen riceve un messaggio che indica che il luogo dell'incontro è stato cambiato in un battello sul Tamigi, dove si sta svolgendo anche un matrimonio. Di notte, Eve e Villanelle salgono a bordo del battello, dove Villanelle massacra i dodici presenti, mentre Eve distrae gli invitati al matrimonio. Subito dopo, Villanelle viene colpita da un cecchino invisibile. Villanelle salva Eve, facendole da scudo, mentre le due si gettano nel Tamigi, dove Villanelle viene colpita a morte e affonda nelle profondità senza che Eve possa raggiungerla. Caroline, che osserva da lontano, dichiara l'assassinio con un walkie-talkie. Eve riemerge in mezzo al fiume e urla. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.